Appuntamento con gli appassionati venerdì 6 ottobre alle ore 22.55 con la nuova puntata di Gentleman Driver. Tantissimi servizi con Paolo Mazzetti, Mille Miglia ed Alfa Romeo, ultima puntata. Giuseppe Cherubini, vicepresidente Comitato Operativo di Mille Miglia, a pochi giorni dalla partenza. Andrea Vesco, Mille Miglia ed Alfa Romeo, una grande sfida. Si sente Aria di Mille Miglia, con Cristiano Luzzago a bordo della Relia Besset. Paolo Bucchi e Lavor, nuovo passion sponsor di Mille Miglia. Museo Mille Miglia, una visita immancabile con Maria Bussolati Bonera. Concorso fotografico Bruno Boni, una grande storia con la Mille Miglia al centro dell'obiettivo. Milano Autoclassica, ritornano gli eventi fieristici ed è subito successo. Vi ricordiamo che nella grafica che segue troverete tutti gli orari delle repliche tv, i canali del digitale terrestre dove è visibile la trasmissione ed i link per poterla rivedere sul web.